musica che cosa prendi? non lo so Federico ci sta in vendita qualsiasi cosa tu voglia ma ce l'hai fatta trattativa per l'accusa ma quale trattativa? ti portano qualsiasi cosa? eh si devi vedere sempre se è tutto fila liscio eh specialmente con i diritti d'immagine i diritti di che? eh che la roba ti fa una fotografia è nata l'andello ma chi la vuole fare questa fotografia? anzi anzi scegliamo bene perchè qua se ci va di lusso può darsi pure che beccano una bella plus valenza ma che diavolo stai dicendo? ne voglio solo un cocktail hai ragione ah non portiamola per le lunghe meno male ma ci sta qualcosa con la clausola rescisorio?